I think I'm perfect Perfect, perfect, perfect Just perfect, perfect, perfect I'm perfect E ben a tutti ragazzi, io sono MichaelCentro E sì, finalmente siamo tornati in questione su un episodio di Minecraft Dita Nello scorso episodio abbiamo costruito questa farm semi-automatica di neve, una farm infinita perché noi basterà che verremo qui e premere con il tasto destro su questo tappettino di neve qua e il pupazzo continuandolo a richiare ci tropperà alla fine due palline di neve poi queste due palline finiscono dentro la tramoggia che le porterà dentro tutte queste chest qui fino ad arrivare qui in fondo io qui off-camera ho poi raccolto un bel po' di neve ho sprecato in tutto, cioè ho utilizzato tre palli di ferro e come potete vedere qui ci sono veramente tante chest poi off-camera ho pure migliato un pochettino l'estetica, infatti ho messo qui tutto il legno di birch e il legno di betulla, invece dietro ho voluto inserire un pochettino di neve e mi sa che dopo potremo pure inserire qui sotto una lastra tutta di neve cosa almeno non è un pochettino più carina tutta la nostra farm ho appena raccolto tutta la neve che avevo dentro le mie chest, infatti questo qui è tutto il risultato e quest'oggi costruiremo un pupazzo di neve che farà da casa diciamo che sarà la costruzione, la struttura della nostra farm, cosa almeno la nostra farm non sarà cielo aperto ma avrà una propria costruzione quindi possiamo già fare la nostra costruzione quindi mettiamo qui due blocchi e qui altri due lasciamo un blocchettino libero facciamo qui tutta il lato blocco libero tutto il lato e anche per l'ultimo lato facciamo tutto il tutto il lato con l'angolo locato dopo aver fatto la base possiamo iniziare a fare il secondo livello che sarebbe questo qui e la differenza è che noi ora utilizziamo anche gli angoli quindi doveva venirvi una costruzione di questo tipo qua in questo modo quindi ora possiamo utilizzare utilizziamo sempre questi blocchi qua lo spacchiamo anche se ora lo perdiamo e facciamo ancora un altro layer facciamo l'ultimo livello quindi facciamo ancora in questo modo qua e piazziamo gli ultimissimi blocchi in questo modo qua ora possiamo fare ancora un altro layer questo qui sarà il terzo con l'angolo perché se voi contate uno due tre angoli quindi riempiamo tutto e infine facciamo l'ultimissimo livello che sarà uguale identico al primo quindi finiamo questo livello qui in questo modo qui e ora facciamo ancora quello che abbiamo fatto nel primo livello quindi togliamo gli angoli arrivati a questo punto vi consiglio di chiudere tutta questa piattaforma qui quindi di dividere il pupazzo di livello in due parti la parte sotto che sarebbe un pochettino la palla principale la base invece sopra costruiremo la faccia il pupazzo di livello l'ho voluto fare piccolino così perché sinceramente facendolo grosso non mi piaceva tanto e adesso faccio dire innanzitutto come sta uscendo se guardate la palla quella sotto in questo modo qui voi siete tranquilli che comunque in futuro cioè più avanti durante l'episodio mettendo anche un pochettino di bottoni e robe del genere la costruzione diventerà molto carina quindi possiamo farci per ora una scalettina mettiamo qui anche questi ultimi blocchi perfetto quindi dopo aver fatto questo livello qua vi ho voluto riempire anche se comunque non è una cosa obbligatoria possiamo alzarci e facciamo ancora gli angoli quindi occupiamo tutti gli angoli e facciamo comunque lo stesso perimetro l'unica differenza tra il livello sotto e quello sopra è che quello sopra avrà gli angoli quindi mettiamo anche il penultimo angolo e ora possiamo mettere l'ultimissimo angolo in questo modo qua perfetto quindi stiamo già facendo la testa del nostro pupazzo per fare il penultimo livello da testa bisogna fare ancora un quadrato in questo modo qua ora noi inseriremo anche una torcia dentro la testa se no spawneranno anche i mob quindi inseriamo l'assoluto prima che dopo mi dimentico ne mettiamo una qui centrale e ora bisogna fare l'ultimissimo livello che è ancora così facciamo ancora tutto il perimetro senza mettere gli angoli quindi mettiamo gli ultimissimi blocchi perfetto e ora possiamo chiudere la nostra testa quindi possiamo fare un livello tutto così perfetto per fare il cappello ora possiamo utilizzare questo design qui sinceramente questi blocchi qui non li utilizzo se no dopo non mi bastano possiamo inserire qui dentro i blocchi gialli con un blocchettino d'altezza in questo modo qua perfetto mettiamo qui tutto tutto il contorno ora facciamo un livello solo con i blocchi rossi non mi basta quindi dopo devo andarne a fare altri e l'ultimissimo livello no sinceramente potrei pure lasciarlo così vediamo un attimino proviamo a scendere però prima di scendere possiamo infilare il naso dentro la faccia e bisogna infilare anche gli occhi quindi un occhio e l'altro occhio di qua invece il naso va infilato in questo blocco quindi uno e due perfetto ora possiamo andare a dormire poi devo bagnare un pochettino la concrete quella nera e quella azzurra quindi appena mi sono fatto tutti questi materiali qui mi sono fatto anche un pochettino di rosso possiamo continuare la nostra costruzione perfetto ragazzi abbiamo finito di bagnare tutta la concrete quindi ora possiamo salire possiamo piazzare gli occhi quindi uno di qui uno di qui invece per finire il cappello possiamo utilizzare un'altra scalettina quindi mettiamo due blocchettini qui l'ultimo qua ora facciamo un attimo un po' di parkour perfetto e possiamo chiudere il nostro cappello quindi mettiamo tutti i blocchettini qui così io sinceramente metterei una torcia qui in mezzo quindi non mettiamo il blocco ma mettiamo qui una torcia se almeno fa luce e non spawnano i mob quindi possiamo spaccare questo blocco qui che è di troppo e possiamo spaccare tutta la scalettina quindi spacchiamo questo spacchiamo per questo qui e spacchiamo quest'ultimo blocco quindi il nostro pupazzo di neve in pratica è finito mancano solamente i bottoni quindi possiamo spaccare gli ultimi pezzettini della scalettina mettiamo un bottone in questo punto qui e l'altro bottone in questo punto qua perfetto quindi se ora noi guardiamo un pochettino il pupazzo di neve da lontano cioè secondo me è molto carino come è venuto poi ditemi magari cosa possiamo modificare nei commenti ora riprenderei un cancellino quindi andiamo nel nostro magazzino e sinceramente utilizzerei il cancelletto di betulla così almeno si abbina diciamo abbastanza con il pupazzo di neve quindi ci serviamo mi sembra 4-5-6 pezzi perfetto quindi ci facciamo degli stick in questo modo qui perfetto e ci facciamo il nostro cancellino non mi ricordo se si fa così oppure il contrario sinceramente no perfetto ci ho azzeccato quindi possiamo andare lì e possiamo piazzarlo perfetto quindi il nostro pupazzo di neve è completamente finito però sinceramente io prima di chiudere l'episodio vorrei far per bene tutta questa piattaforma qui quindi possiamo spaccare questo blocco qui io sinceramente riempirei tutti i blocchi sia di contorno sia di pavimento con dei blocchettini di neve così almeno diciamo che è tutto più abbinato e non ci sono zone più brutte di altre quindi spacchiamo tutto e possiamo riempire tutto con la neve perfetto poi abbiamo finito di piazzare tutti i blocchi quindi io piazzerei sinceramente un pochettino di torce interne così almeno siamo sicuri che non spawnano completamente mob quindi possiamo mettere l'ultimissima torcia pure in questo blocco qui e la nostra farm è completamente finita quindi lo possiamo uscire possiamo andare sotto per vedere se alcune torce si sono staccate quindi la nostra botola è qui perfetto chiudiamo la botola no vabbè fa niente abbiamo perso ed ecco qua la nostra farm è completamente finita quindi possiamo mettere tutti i blocchettini di neve dentro la cesta in questo modo qua perfetto quindi ragazzi io spero che questa costruzione vi sia piaciuta se avete magari qualche modifica da consigliarmi iscrivetevi a una costruzione nei commenti o magari nel prossimo episodio potrei già applicarla al nostro pavaggio di neve comunque per questo episodio è tutto io vi ricordo che vi lasciate un bel mi piace di commentare e di iscrivervi al canale per questo episodio è tutto bella ragazzi e di iscrivervi al canale